Gentili telespettatori, buona giornata del mastro di Fratelli d'Italia, già a rinvio a giudizio, rischia un secondo processo. L'esponente di Fratelli d'Italia, già a giudizio per il caso cospito, per un'indagine sull'acquisto di libri sulle foibe, attaccò il procuratore che lo ha denunciato. La Cassazione chiede di riaprire il fascicolo, quindi per il video contro la Corte dei Conti. E così Andrea del Mastro delle Vedove rischia di dover affrontare un secondo processo. L'accusa per il primo è di rivelazione del segreto d'ufficio per aver diffuso informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Del Mastro è stato infatti denunciato per diffamazione adesso dal procuratore generale della Corte dei Conti del Piemonte, la notizia pubblicata sulla stampa. A seguito di questa denuncia il GIP, che è l'acronimo di giudice per le indagini preliminari, decise di non procedere, ma la procura ha fatto ricorso e la Cassazione lo ha accolto, disponendo la riapertura del fascicolo. Una dinamica per certi versi simile a quella del procedimento su Cospito. In quel caso, al termine delle indagini, la procura di Roma aveva chiesto l'archiviazione per il sottosegretario, ma il giudice per le indagini preliminari ne aveva disposto l'imputazione coatta. decisione confermata dal giudice delle udienze preliminari di Roma. Quindi succede un qualcosa di strano. Viene chiesta l'archiviazione del Mastro, però poi il GIP, in una procedura rara, una cosa che di solito non succede, chiede l'imputazione coatta, cioè il rinvio a giudizio. E qui, sul caso del video contro la Corte dei Conti, succede più o meno la stessa cosa. Il secondo episodio rischia di condurre del Mastro di nuovo in tribunale e risale al 2021, quando ancora non c'era il governo Meloni, durante i mesi prima delle elezioni anticipate. Aveva pubblicato un video sul canale YouTube del suo partito, un video che lo potete trovare ancora oggi. Se lo volete cercare, il titolo è Del Mastro, due punti, incredibile, punto esclamativo. In Italia non puoi neanche pensare di ricordare le foibe. E così, in questo video, definisce il procuratore generale della Corte dei Conti per il Piemonte, Quirino Lorelli, caro capitano fracassa della sinistra giudiziaria italiana. E il giudice della Corte dei Conti aveva aperto la denuncia per danno erariale contro l'assessore regionale del Piemonte Elena Chiorino, fedelissima di Del Mastro, che aveva deciso di far acquisire e acquistare dalla regione dei volumi sulla storia delle foibe per donarli alle scuole. Libri che però non vennero mai comprati a causa della pandemia. La decisione del vertice della Corte dei Conti innescò l'ira del futuro sottosegretario che si sfogò nel video sotto accusa e che ora, in quanto parlamentare, dovrà presentarsi alla giustizia per le autorizzazioni della Camera. Allora, quindi viene portato in giudizio per aver definito il giudice Capitan Fracassa. Capitan Fracassa è il protagonista di una storia di fantasia e un romanzo pubblicato a puntate dal 25 dicembre 1861 al 30 giugno 1863. Capitan Fracassa. Poi, sinceramente, della trama è un giovane barone, però, insomma, sinceramente io non ho mai letto questa saga, questo libro del 1860, dal titolo Capitan Fracassa. Ci sono 8, 9, 10, addirittura i capitoli di questo sono 22. Beh, secondo voi può essere considerato un qualcosa per essere portati davanti a un giudice dire Capitan Fracassa a una persona? A me non sembra, però oggi non puoi criticare i giudici con nome e cognome. Probabilmente i politici peccano un po' di ingenuità, perché nel prossimo video parleremo ancora di Del Mastro, perché è venuta fuori un'altra situazione che potrebbe complicare il suo primo processo, quello del caso cospito. Credo che i politici dovrebbero stare un po' più attenti quando parlano, perché il politico, persona pubblica, dando delle sue opinioni, può sconfinare nella diffamazione, nella calunnia. Quindi quando si parla delle persone, chiunque esse siano, per una persona pubblica, deve avere l'accortezza di capire qual è il confine tra la critica e la diffamazione, o la presa in giro che poi si trasforma spesso in diffamazione. Vedremo che cosa succederà avendo definito caro Capitan Fracassa della sinistra giudiziaria italiana. Vedremo. A me non sembra proprio una diffamazione, però si vede che magari il giudice l'ha ravvisata. Io intanto vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Tele Italia, seconda rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.